Grazie a tutti. La barba bianca c'è, un posto a cui sono particolarmente legato, soprattutto con gli amici della Palacanestro, ma non soltanto, perché mi trovo spesso anche a parlare col microfono a tutti gli altri, anche a tutti gli altri di tutte le altre discipline. Allora, siamo qua soprattutto per un motivo principale, lo vedete anche scritto, lo vedete anche in basso nella sua fotografia di presentazione, con uno dei più grandi atleti in assoluto dello sport italiano. Il suo vero sport è il salto in alto, c'è parte dell'atletica leggera, però qua al posto del cuore c'è una palla arancione ed è legato particolarmente allo sport della palla canestro. Stiamo parlando evidentemente di Gianmarco Tamberi, che è un personaggio a 360 gradi, non solo nell'atletica leggera, secondo me la sua grande capacità è stata quella di riuscire a rompere le barriere per il suo modo di fare, il suo modo di essere e soprattutto l'entusiasmo che mette sempre anche la teatralità, lo vedete nei suoi modi di fare. È proprio un ragazzo che si gode la vita, un bell'esempio, è anche un bellissimo esempio di resilienza. Qui, quando salta 2.35, siamo nel 2016, è un esempio di resilienza, perché lui era tanto così dal vivere un sogno, le Olimpiadi, un infortunio le ha portate via, adesso c'è purtroppo quest'epidemia che l'ho allontanato ancora da questo sogno, però continuo a lavorare per inseguire quel sogno, perché l'Olimpiade, lo sappiamo, è il traguardo principale per qualsiasi atleta, per chiunque faccia sport. Allora, noi dovremmo vederlo apparire, perché l'abbiamo visto prima, mentre rivediamo l'incredibile salto. Eccolo lì, Gianmarco Tamberi. Li vedete? Eccolo. Ciao. Come potete già vedere, dalla mano spiega bene, perché se la cava anche con la pallacanestra. Allora, premettiamo una cosa, Ale, che non mi rendevo conto, dovevamo fare questa cosa e lo sapevo, ma mentre mi facevi l'introduzione, mi stavi presentando, mi sono reso conto di quanto per me in realtà in questo momento si stava realizzando un sogno, ovvero che un presentatore, un commentatore NBA mi presentasse davanti. Quindi per me, cioè, mentre parlavi di me dico, cazzo, ma mamuli, adesso sta facendo il senso. Tu quanto sei alto ufficialmente? 92. Allora, facciamo la presentazione ufficiale. Da Ancona, 1,92 m alla Gianmarco Jimbo Tamberi. Così almeno la facciamo bene, come si deve. Ho anche il canestro qua, se mi chiedi qualcosa. No, ho visto, ho visto. Canestro, ma ci puoi tirare con la pallina? È ufficiale? La pallina è quella di spugna, perché quella normale Chiara non vuole. Ok, però vedo che ci sono anche i cinque cerchi olimpici sotto il canestro. Eh sì, fondamentali, fondamentali. Te li hai già tatuati da qualche parte? No, ancora no. Ho fatto l'olimpiede nel 2012, ma poi ho passato come ben sai quelle del 2016, quindi... Ma tu sei in orizzontale, io sono in verticale. Vuoi in orizzontale anche a me? No, è che io sto usando il computer, non ti preoccupare. Ah, ok. Se no potrei... Comunque, niente tatuaggi, no. Niente tatuaggi. Vedremo se succede qualcosa di bello. Ho ricordato che tu avevi cerchiato, a proposito di cerchi, proprio le Olimpiadi del 2016, che dovevano essere le tue Olimpiadi, poi l'infortunio te le ha momentaneamente portate via, adesso le rivedi allontanarsi sicuramente almeno per un anno. Come la stai vivendo questa... Già il fatto che dice almeno per un anno, mi prende un po' d'angoscia. Per un anno, diciamo, per un anno. Ma almeno togliamo. Beh, diciamo sì, come hai detto tu, esatto, dopo quell'infortunio del 2016 per me le Olimpiadi, come per qualsiasi atleta, hanno un significato molto importante, ma in questa mia storia particolare hanno avuto anche sempre più motivo di essere una parte centrale della mia vita. Quindi lo sto vivendo come appena ho saputo la notizia, è stato un dramma. Le prime cinque ore, dico la verità, sono uno dei pochi giorni della mia vita, anzi no, ormai sono diventati tanti, dei pochi giorni della mia vita che ho pianto, dei tanti giorni. Ma perché comunque era una data che aspettavo da quattro anni tantissimo, più che altro. E' stata proprio grazie all'Olimpiadi di Tokyo, è stato il motivo del mio tornare a gareggiare ad alto livello. Io ogni difficoltà che avevo in questi anni pensavo a Tokyo e mi rialzavo e mi rimettevo a combattere. Quindi avevano per me un significato molto, e hanno tuttora un significato molto, molto grande. Vederli riallontanare di un anno, so che è una cosa giusta, mi rendo conto che vista la situazione non si poteva fare altrimenti, ma nella mia storia personale un pochino di cuore me lo ha ferito, però ci sta. Allora, ci sono una marea di cose che vorrei chiederti, che ti chiederò. Poi ci sarà anche un momento in cui arriveranno le domande da chi ci sta seguendo live sulla pagina, lo ricordo, dell'Eurocamp. Tanto il motivo principale per cui sei qui, al di là di tutto quello che fai, di quanto la tua figura, di quanto tu sia celebre all'interno dello sport in Italia, perché tu sei un ex camper dell'Eurocamp. È ovvio. C'è il nostro Luca Noferini, non so che controlla la regia, non so se magari adesso le butterà dentro, se no promettiamo che nei prossimi giorni le faremo vedere sul profilo. Un piccolo Gianmarco Tamberi tra Stefano Pillastrini, direttore del camp, e Gianmarco Pozzecco. Lì quanto eri distante dall'idea del salto in alto e quanto eri più vicino a quella della pallacanestro? Ero in un altro pianeta. Io ho giocato a pallacanestro dai 4 ai 17 anni, quindi lì credo, giusto guardando un occhio, credo che ero proprio nella metà di questo percorso. Per me la pallacanestro è tuttora una cosa fondamentale, talmente importante che lì in quel momento non avrei mai pensato di poterla abbandonare. E negli anni in cui poi l'ho fatto, in realtà è stata una scelta molto molto difficile e graduale nel tempo. Ci ho messo veramente un po' a metabolizzare questo passaggio. Sono andato all'Eurocamp, se non due volte, addirittura tre volte. Non ricordo bene quante, però è stata una delle esperienze più belle in assoluto, perché a quelle età lì, quando sei così piccolo, comunque la pallacanestro è tutto per te, gli amici, l'indipendenza dell'andare per la prima volta fuori casa e divertirsi è una cosa sensazionale. Ma poi pozzecco, vogliamo parlare di pozzecco, nel senso, di cosa stiamo parlando? Lì un po' di insegnamento inconsciamente te l'ha dato, perché una delle cose che secondo me ti contraddistingue, poi torniamo sulla pallacanestro, è come tu riesci a vivere, è vero che non fai il calciatore. Spesso io vedo, per esempio, i calciatori che hanno tutta questa pressione, questa visibilità, stanno sempre attenti a quello che devono dire, a quello che fanno, a come si devono comportare. Però la tua popolarità, per certi versi, soprattutto in Italia, arriva a quei livelli. Ma tu proprio sei te stesso, cioè la sensazione anche per come usi i tuoi social, è come sei riuscito a non dover pensare troppo a quello che fai ogni volta, pur avendo raggiunto lo status che hai raggiunto, non solo come atleta, ma anche come personaggio. Io te la invidio questa cosa. Ti ringrazio. In linea di massima credo che, in primis, essendo me stesso, mi ha aiutato tantissimo nel mio sport a fare quello che in parte ho fatto e spero che riuscirò a fare nel mio futuro. In pedana, spesso e volentieri, l'atleta dell'atletica leggera, abbiamo un'idea dell'atleta molto serio, cupo, occhi bassi, uno che lavora e basta, e che non ha mai quel modo di aprire gli occhi e vedere cosa è intorno. Cioè l'atleta per antonomasia dell'atletica leggera è quello serio, a testa bassa, che fa il suo compitino e lavora da morire a casa. Io venendo dalla palacanestro questa cosa ho fatto veramente difficoltà a capirla e quindi sono arrivato come cestista nel mondo dell'atletica e ho cercato di portare quel mio sogno di quando ero piccolo, ovvero di vivere magari con il pubblico una vittoria, di sentire un coro. Cioè era veramente, quando io ero piccolino, pensare di giocare in un palazzetto, mettere la bomba mentre il mio tifo mi faceva un coro, per me era uno dei sogni più grandi. Quindi quando sono arrivato nell'atletica non volevo rinunciare a questo sogno. E ho portato con me questo sogno appunto di condividere le mie gioie, le mie tristezze con il pubblico, quindi con lo stadio. E essendo me stesso dentro la pedana è stato molto più facile poi essere me stesso davanti ai giornali, con i media, essere me stesso con i social. Dal momento in cui tu, quando sei in televisione, quindi il punto mediatico più importante degli atleti, il momento in cui sono più esposti, riesci ad essere te stesso, poi tutto il resto viene da sé, è tutta la parte più facile. Il difficile è, credo, proprio esserlo lì, nel momento in cui hai le telecamere puntate e sei davanti a 60, 70, 80 mila spettatori. Un'altra delle cose che mi colpisce tantissimo è che tu sei un atleta di altissimo livello anche internazionale, non solo italiano. È la tua incoscienza, e secondo me questo spiega molto dell'atlato che tu hai nei confronti della pallacanestro, intanto dell'esigenza che hai a un certo punto di dire ragazzi, oh, io devo giocare. Io capisco la preparazione, ma a un certo punto devo giocare, tanto che so che quando sei stato qua a Milano, ad esempio, hai chiesto ospitalità a squadre per giocare, ma il problema è che quando tu giochi, ci dai, cioè se uno vede i filmati delle tue partite, dici, oh, ma un attimo, questo deve fare le Olimpiadi, deve fare le sue gare, ma non è che esagera da un certo punto di vista. Allora, questa è una domanda che mi mette molto in difficoltà se fatti in ambiti di atletica leggera. Quando parlo con cestisti riesco molto più facilmente a far ricapire di quanto la pallacanestro sia in realtà per noi una malattia o qualcosa che non riusciamo a farne a meno. Quindi, avendo adesso un pubblico tutto di cestisti, so che loro capiranno quando dico che davvero star lontani dal canestro e da quella palla è una cosa che rimane molto difficile a chi è nato con questa propensione alla pallacanestro. Mi rimane molto più difficile giustificarlo alla Federazione Italiana Atletica Leggera piuttosto a tutti coloro che invece seguono l'atletica. Però è così, la realtà dei fatti è che mi fa star talmente tanto bene giocare a pallacanestro e mi aiuta così tanto a sciogliere le tensioni che ho. Comunque, come hai detto prima, a un certo punto si arriva anche ad avere parecchie pressioni dall'esterno nel mio mondo, a differenza del calcio magari molto meno, ma quando arrivi magari, come nel mio caso, ad essere il capilano della nazionale, al top della forma o vicino agli appuntamenti importanti, comunque un pochino la pressione si sente e quando dico un pochino la minimizzo. Quella pallacanestro a me ha aiuto tantissimo a liberarmi da tutti questi pesi e riuscire poi a trasformarli in trampolini. La pressione è una di quelle cose che può schiacciarti tantissimo, ma può darti anche più di tutti. Quindi credo che in realtà fino a quando riesco a tenerla sotto controllo e a giocare, è vero che sembra che si stia giocando al 600%, ma in realtà il mio modo di giocare, avendo fortunatamente giocato 13 anni, riesco a gestirmi, nel senso che riesco a fare cose che rischiano una percentuale minore rispetto a giocare a un 100% solo per vincere. Poi sono un competitivo nato, quindi se sono sotto di due e mancano dieci secondi, comunque l'azione ad andare dentro e non me ne imprega del contatto la faccio uguale. Quello si vince molto anche proprio dai video ogni tanto, ci capita spessissimo di vedere le tue immagini, soprattutto dalle community, magari del basket, quando vai a giocare vengono sempre ripostate e riproposte. Sei un giocatore molto fisico, molto atletico, ci dai, come hai detto giustamente, grazie anche alle tue qualità atletiche arrivi spesso, fortunatamente anche al ferro, schiacci con facilità. Ti vorrei chiedere il tuo modo di giocare, se si ispira a qualcuno, cioè quando tu giochi, ti faccio il mio esempio, io sono cresciuto con negli occhi Michael Jordan e Drasen Petrovic, sono quelli che mi hanno fatto innamorare del basket. Quindi chi è quello che tu guardando dicevi, grazie a lui io mi sono innamorato della pallacanestro e nel tuo modo di giocare, se ti ispiri a qualcuno oggi in particolare? Allora, nel modo di giocare sinceramente no, uno perché non credo di essere all'altezza, se dovessi prendere qualcuno come esempio lo imiterei in maniera veramente orribile, però nel modo di pensare un pochino sì, anche più di un pochino perché per me è sempre stata quell'idea del classico non arrendersi mai, è sempre stato un motto che da quando sono piccolo mi rimbomba in testa, per vari motivi, in primis nella mia zona c'è una squadra di basket, la Robo Rosimo in cui è giocato da quando ero piccolo, non so se conosci, è arrivata fino alla 2, ha fatto un continuo promozioni su promozioni dalla C2 se non sbaglio, ha fatto C2, C1, B2, B1 e A2 in conseguenza, senza fermarsi mai, col grandissimo coach che ormai non è più tra noi da anni, Alessio Baltinelli che per me è stata veramente una figura che a quell'età lì uno si ispira solo agli atleti solitamente, ai giocatori di basket, per noi era talmente bravo quell'allenatore che anche noi ragazzini vedevamo in lui un qualcosa di magnifico e lui il suo non mollare mai era una cosa che mi ha appassionato da morire e ti ho fatto questa breve introduzione per dirti che poi Tressi Mecredi in realtà con quella partita emblematica del non mollare mai, quella partita che il 90% dei giocatori di basket ma qualsiasi sport avrebbero lasciato la palla e pensato alla partita successiva e lui in quella partita invece ha deciso che voleva vincerla e non si sa perché ha deciso nel senso, logicamente parlando non aveva senso provarci, eppure ci ha provato, è stato l'unico che forse dice in quel momento ci provo e ce l'ha fatta e per me quell'emblema lì è una cosa che ho portato avanti nello sport in continuazione, provare ad imitare un campione del genere, più che imitare lui la sua mentalità, questo approccio allo sport Ricordiamo i famosi, credo ti riferisci ai famosi 13 in 35 secondi contro il San Antonio Spero, in una varia bassissimo punteggio che finì a 80, lui fece 13 punti Assurdo, assurdo, a me mi vengono i brividi ogni volta che guardo quel video, ogni volta È davvero incredibile, è una parte che andò anche sugli schermi di Sky Sports e anche col commento di Flavio e Federico, incredoli altrettanto anche loro, pur avendone viste di ogni. Ho letto, correggimi se sbaglio, da qualche parte che forse tu hai un po' messo l'Olimpiade come un punto, non di arrivo, ma un punto in cui poi magari decidi di prendere delle decisioni all'interno della tua vita. È ovvio che sei un ragazzo giovane, hai ancora tante cose che puoi fare davanti, non solo all'interno della tua carriera di sportivo. Intanto ti chiedo, per uno che fa salto in alto, so che ci sono alcune discipline per cui diventi vecchio molto giovane, non so nel caso della tua come si può rappresentare e quanto stai pensando al dopo e la provocazione, visto che stiamo qua, ma non è che poi magari vuoi anche smettere in anticipo così riesci a fare quel benedetto campionato con una squadra di pallacanestro. Allora, non mi cogli impreparato perché mi è stata chiesta più volte questa cosa e non ho mai fatto fatica a nascondere. Nel 2015, l'anno prima dell'Olimpiadi di Rio, avevo detto più volte che nel caso l'Olimpiadi fossero andate come io speravo e come tu ben puoi immaginare cosa intendo quando così speravo, avrei smesso per darmi la pallacanestro perché la mia passione più grande, quello che mi rende più felice, magari un giorno era giusto provare a farlo. Adesso è arrivata l'Olimpiadi di Tokyo, ormai mancano, sì è vero che è stata posticipata, ma manca meno di un anno e sinceramente l'atleta più o meno nel salto in alto, se possiamo dire che la sua parabola discendente la inizia sui 31 ma è abbastanza ripida e ai 33-34 fai difficoltà a essere competitivo a livello internazionale. Se prendi in considerazione questa cosa è che ho 28 anni, anno prossimo non avrò 29, tener duro per due anni non so se vale la pena o a quel punto se dovessero andare come speriamo l'Olimpiadi magari riprendere in mano la palla. Non lo so sinceramente, è davvero difficile ora come ora dare delle conclusioni. Quello che è certo è che adesso io alle Olimpiadi ci penso giorno e notte che è l'unica cosa su cui riesco a concentrarmi per fare un prospetto futuro. Quindi per me fino ad agosto di anno prossimo è come se finisse il mio futuro lì. Riesco ad avere la testa solo fino a quella data e poi vedremo quello che succede a seconda di come andrà quella gara, a seconda di come mi sentirò dopo quella gara se avrò voglia di continuare. Comunque è stata veramente dura tornare dopo quell'infortunio a crederci di nuovo, a riprovarci e poi fisicamente a riuscire ad essere competitivo. Quindi non lo so, vedremo, vedremo. Ricordiamo poi alcune cose che ti sono chieste, come hai detto giustamente tu, ti sono già state chieste altrove, però può essere che magari in questo contesto ci siano anche delle persone che non ti abbiano sentito raccontare o spiegare certe cose. Una cosa molto banale, molto semplice, che ti caratterizza molto. Quando vai in gara si taglia la barba a metà, cioè proprio diventi the mask, due facce, c'è una parte di Jimbo con la barba e l'altra senza. Come è nata questa cosa e qual è il motivo? Vado in guerra, vado. La verità è questa, che io quando vado in guerra è il mio costume da battaglia. Allora è nata nel 2011, quindi ormai sono nove anni, ad un campionato italiano junior per l'esattezza. Venivo da dei problemi fisici, prima della gara avevo parecchie pressioni addosso, al tempo le pressioni erano molto meno perché ero più piccolo e ovviamente i risultati di conseguenza erano minori, però avevo pressioni addosso da coloro che mi seguivano, da coloro che credevano in me perché quella gara fondamentalmente ero lo strafavorito, era una gara che non potevo perdere per come erano andate le gare qualche mese prima. Io venendo da questo importunio però ero molto teso, avevo molto paura di deludere le loro aspettative e a tal punto che decisi di fare questa cosa per alleggerirmi io di questo peso, per cercare di sdrammatizzare e dire come al solito vivitela come sei tu, vivitela per divertirti, vai lì e goditela perché questo ti è sempre aiutato. Come abbiamo detto prima, sii te stesso in pedana, se tutte queste pressioni le vivi come un peso fai difficoltà e quindi mi ha preso questa cosa da matto di farmi la metabarba, avevo però, quanti anni avevo? 2011? 19 anni, quindi è vero avevo la barba ma neanche così tanta, se no si vedeva la mia metabarba al tempo. In quella gara lì il mio personale era 2.14, io speravo di avvicinarlo, speravo di saltare 2.10 o comunque di vincerla, ho fatto stag, ho fatto 2.25 in quella gara, è una cosa che per farti, cioè davvero cambi completamente pianeta, se sei tra un atleta fortino a livello nazionale assoluto diventi uno dei più forti a livello nazionale, uno dei più forti d'Europa della tua età, quindi mi esplosa, ho fatto una performance che neanche io mai avrei immaginato e da lì quella metabarba non potevo non replicarla a tutte le gare successive. Quindi da buon cestista scaramantico giustamente l'hai tenuta, come tutti i cestisti, la maggior parte sono scaramantici, un po' quel 2.25 è un po' come uno che fa 50 punti quando normalmente ne fa 15.20 di mezzo. Però non cambia più le mutande. Però, guarda, ti dico, se posso interromperti, una delle più belle scaramanzie che io abbia mai sentito è proprio della pallacanestro, sarà che seguo solo quello come sport, ma di un giocatore che non mi ricordo chi fosse, che prima di andare a dormire ogni notte dormiva con la maglia del giocatore che avrebbe poi difeso. E credo che sia una delle cose più belle e più significative, veramente bellissima. Esatto, anche perché poi bisogna averle tutte le maglie del giocatore contro cui devi giocare e quindi era un collezionista. Intanto vi ricordo, c'è sempre il nostro Luca dietro il regia che prima o poi dovrebbe far apparire delle domande, che potete fare a Gianmarco ed eventualmente potete chiedere quello che volete, come sta ad esempio facendo Riccardo. Provo a trasformare la sua domanda. Lui dice come si lavora sulla tecnica di salto in alto, sulla tecnica di salto in generale. La pallacanestro ha aiutato da questo punto di vista. Mi viene in mente, non avendo mai fatto salto in alto, se non a livello basso, perché io ho frequentato l'ISEF e ci toccava fare anche atletica, dovevamo saltare in alto, però il terzo tempo, diciamo, la didattica, la dinamica del terzo tempo da questo punto di vista ti ha aiutato, perché tu hai cominciato prima a giocare a pallacanestro e poi hai saltato. Sì, la realtà no, la realtà è che non mi ha aiutato perché è un gesto completamente diverso per quanto non sembra tanto, tanto diverso. La differenza forse in realtà sostanziale è che nell'atletica c'è una differenza abissale tra l'atletica e il basket e nell'atletica i dettagli davvero minuziosi sono cose che fanno la differenza. Lo fanno anche nel basket, cogli bene quello che sto per dire perché sembra magari di… però da noi sì, da noi, nell'atletica, da loro, perché io faccio parte di voi della pallacanestro, da loro nell'atletica si guardano delle cose che nella pallacanestro non andresti mai ad analizzare. Una meccanica di tiro magari la costruisci e la migliori nel tempo, la analizzi, ma per farti un esempio significherebbe andare a guardare non la posizione, l'angolo della mano, ma andare a guardare se hai lunghi a tagliata. Un po' di strello, certo. Quasi. Cioè, veramente sono cose talmente millimetriche che io mai avrei pensato quando giocavo a pallacanestro che si potesse andare così a fondo in una competenza tecnica. Ti riporterei un attimo sull'Eurocamp. Io mi ricordo la prima volta che sono arrivato all'Eurocamp, è ormai dieci anni, che vado dove mi invitano sempre perché mi trovo benissimo, mi trovo benissimo a parlare con i ragazzi, è un posto al quale sono veramente legato. Io non ho, come te, non ho fatto l'Eurocamp da piccolo, ho frequentato degli altri camp, ma non quello. Però la prima cosa che mi è venuta in mente quando l'ho vista, l'hanno frequentato, ad esempio, i miei figli, è il paese dei balocchi. Cioè, l'idea di avere un posto così. Quindi, al di là della pallacanestro, Pozzecco, tutto quello che mi hai raccontato, che cosa voleva dire per te frequentare l'Eurocamp? Io vedo dei ragazzi che tornano ogni anno che veramente per loro è come la partenza nel paese dei balocchi, al di là del fatto di fare l'attività sportiva, confrontarsi anche contro dei ragazzi contro cui normalmente non giocano anche. Certo. No, hai detto benissimo, è il paese dei balocchi. Io ogni tanto, ogni volta che dovevo partire, fare lo zaino per andare, ti dico, non ricordo se fossero due o tre volte le volte che ho partecipato, ma il ricordo che ho è pazzesco. Veramente delle settimane stratosferiche, perché stavi con gli amici, stavi in un posto, piscine, acquapark, campi da basket ovunque. Era bellissimo. Il ricordo che ho è davvero top. Senti, c'è un giocatore, anzi intanto prima una squadra di cui sei tifoso, si può dire? Houston Rockets. Houston Rockets. Motivo? Il bar. Motivo per Tracy McGredy sicuramente. Adesso il mio giocatore preferito in attività è James Sarden. Quindi vai contro tutti gli haters che invece lo odiano perché non passa mai. È ovvio, io sono controcorrentista. No, James Sarden, ti dico, mi affascina soprattutto il suo modo di giocare la pallacanestro con una naturalezza sensazionale. Il fatto di... Sembra che lui in realtà stia facendo colazione quando gioca una partita. E questa cosa mi stupisce, mi prende da morire vedere quanto riesce a farlo con noscialanza. Ecco, cioè fa cadere per terra uno un ankle break, un rubio della situazione, lui l'ha fatto sì e no il movimento. A un chilometro orario si è mosso di quei due centimetri e beve il caffè. Questa è una cosa che mi fa impazzire. Poi è ovvio, è criticabile in mille aspetti e io sono il primo a farlo quando magari nelle partite importanti spesso e volentieri ha fatto difficoltà oppure fa difficoltà a difendere spesso e volentieri. Però mi piace. È il tuo giocatore preferito. Un'altra domanda. La differenza, cioè proprio questa necessità, io credo che la passione per la pallacanestro è quello che tu stai raccontando anche di come vivevi l'Eurocamp che è un posto affollato, pieno di gente. Si capisce proprio, si vede, si intuisce che sei uno a cui piace la compagnia. La pallacanestro si gioca insieme, c'è la possibilità di condividere le gioie, le emozioni. Il salto in alto si salta da soli. Cosa è? L'Ollino, 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 come si gestiscono queste due cose? Bene allo stesso modo, al di là del fatto che la pallacanestro oggi sia per il momento un divertimento. Hai colto il punto, la differenza sostanziale è proprio quella. La condivisione delle gioie è soprattutto una delle cose che mi manca più di tutti. È per questo che proprio quando gareggia è proprio il motivo per cui io cerco di condividere il più possibile quello che sto facendo durante la gara, per poi alla fine condividere se ci sarà una gioia con il pubblico. Perché se tu durante la gara ti fai la tua gara, ti fai i cavoli tuoi e non riesci ad esprimere nulla, a condividere nulla con le persone che hai intorno, poi alla fine sarai l'unico a giovare di quella felicità. E io quello che mi manca più di tutti è proprio condividere con la squadra, quel tiro all'ultimo secondo che entra da centrocampo, magari anche se tu non hai giocato mai quella partita, ti senti dentro un qualcosa, la condivisione è un moltiplicatore della felicità. Se sei in cinque, quello che riesci a provare è come se fossi venti persone che provano quella cosa, da solo sei tu che la provi. Quindi questa cosa ti devo dire 10-0 per la pallacanestro e per gli sport di squadra. Ovviamente il sentirsi orgoglioso di quello che hai fatto, il sentirsi proud di te stesso, il sapere quello che hai passato per essere lì e aver raggiunto quell'obiettivo, avendolo fatto tu da solo, senza l'aiuto di nessun altro, perché sei stato tu ad averlo fatto, questo te lo dà molto di più lo sport individuale, essere anche tu il, come si dice, il causa del tuo destino. Sei tu che decidi, no decidi, però sarà colpa o merito tu quello che succederà poi. Quindi questa cosa qui sinceramente adesso come adesso dopo dieci anni di atletica, dopo dieci anni di sport individuale farei fatica a fare, a passare quell'ultima palla di Michael Jordan, passarla ad un altro giocatore che deve segnarla. Farei molta fatica, però è quello che va fatto nello sport di squadra, quindi mi rendo conto che è una differenza abissale, ma io fidarmi di qualcuno che non so esattamente quello che ha fatto l'ora prima della partita, due ore prima della partita, tre ore prima, il giorno prima, la notte, cosa ha mangiato, come ha fatto la dieta, come si è allenato negli ultimi sei anni, non lo farei mai, perché adesso come adesso so che tutto dipende da questi minimi dettagli che fai nell'extra vita, nell'extra sport, quello che è fuori dallo sport. Quindi un pochino mi ha plagiato lo sport individuale da questo punto di vista. Anche se devo dirti che a me colpisce molto, non so se è una cosa tua o una cosa adesso della generazione dei saltatori, il cameratismo che c'è tra di voi, cioè io vedo che ogni tanto quando vai a far le gare, gioite quasi quando c'è un altro concorrente che fa una misura, tu sicuramente, non so gli altri, sei molto felice di questa cosa qua e così come ci sono quelli che li vedi che abbassano la testa, cercano la concentrazione, contano i passi nella loro testa, tu invece cerchi proprio un'altra cosa, cerchi il casino. C'è questa roba qua adesso tra di voi, di questo cameratismo di sostenervi l'uno con l'altro? C'è sicuramente, però è proprio lo sport che aiuta in questa direzione. Lo sport individuale solitamente non è così, lo sport individuale è uno contro l'altro e quindi questa amicizia non si crea molto. Nel nostro sport individuale in realtà il primo avversario è l'asticella, cioè il primo avversario sei te stesso, i tuoi record che devi battere. Noi non facciamo uno sport tipo il tennis che se faccio il punto io non lo fai tu e se lo fai tu non lo faccio io. Noi possiamo fare il punto entrambi, se il mio record è 2.30 e io salto 2.35 e il tuo era 2.33 e salti 2.38 usciamo entrambi dalla gara felici perché entrambi abbiamo fatto qualcosa che non eravamo mai stati in grado di fare prima d'ora, prima di quel momento. Quindi questa cosa qui aiuta molto nel gioire per una persona che riesce a fare qualcosa che non era mai riuscito a fare o comunque riesce a fare una bella prestazione perché sai comunque quanti sacrifici ci sono dietro, sai quanta difficoltà ha fatto per arrivare lì e soprattutto se lui riesce non significa che tu non riesci. A differenza appunto del tennis che se lui riesce, se lui fa punto tu non lo fai. O degli sport in cui sia uno contro uno. Noi in primi siamo contro noi stessi e prima capisci questa cosa prima poi riesci a migliorarti perché se vai in gara pensando oggi spacco tutti quanti e poi non ti concentri su quello che tu veramente devi fare, fai difficoltà a capire qual è il tuo vero obiettivo. Il vero obiettivo è migliorarsi ogni volta perché se migliori arrivi al tuo livello massimo un giorno. Se cerchi di battere qualcuno, magari quel qualcuno non era alla tua altezza, lo batti ma non riesci mai ad arrivare dove sei che sei potuto arrivare. Mentre intanto vediamo delle immagini che ci mostrano che effettivamente non hai grosse difficoltà né a giocare né ad arrivare al ferro. Questa è una partita di beneficenza dei Giardini Margherita, è stato fantastico. Che è un grande palcoscenico, perché non è che possono andare a giocare tutti ai Giardini Margherita. Bellissimo. È sicuramente un grande palcoscenico, se riesci ad arrivare a giocare lì vuol dire che e se riesci a stare in campo lì vuol dire che le qualità ci sono. Ti teniamo ancora pochi minuti Gimbo, poi ti lasciamo andare. Una cosa che mi interessa particolarmente? Una domanda, ne metto due in mezzo. La prima è, tu prima quando citavi l'esempio del prenderti l'ultimo tiro, diciamo facendo la metafora della tua disciplina, perché ti fili di quello che fai tu mentre non sai come ha dormito, come ha mangiato, come sei allenato un tuo compagno di squadra. Intanto quanto, perché noi ti vediamo sempre sorridente che sei lì anche quando posti le cose sui social, fai vedere quella tua bellissima fidanzata che mangi. Sembra quasi che sia arrivato uno con la bacchetta magica che ha fatto così, ha fatto diventare tamberi, tamberi. Il lavoro che c'è reale dietro, i sacrifici che ci sono per arrivare dove sei arrivato tu e in proporzione, accodandoti, è più importante o è più difficile avere talento per il salto in alto o per la pallacanestro? È più facile diventare un giocatore di pallacanestro o un saltatore in alto? Allora, partiamo dalla prima. I sacrifici sono infiniti, cioè infiniti nel senso che dipende dove tu vuoi arrivare, quanto vuoi sacrificare la tua vita per il tuo obiettivo. Questa cosa è vera più che mai. Poi a seconda di quanto è importante quell'obiettivo per te, quei sacrifici diventano più leggeri. Quanta importanza dai tu a quell'obiettivo, quel tuo sogno, che per me in questo caso sono Olimpiadi, quei sacrifici di conseguenza diventano sempre più leggeri. Quanto significa per te? Questa cosa, ti sei perso un post, perché è vero che io rido, scherzo sempre, te ne sei perso un paio in cui piango e mi dispero. Tra parentesi, ti ho detto questa cosa per ridere perché proprio il giorno in cui hanno pubblicato il fatto che le Olimpiadi sarebbero state nel 2021, io ho pubblicato un post in cui ho espresso, ho esternato tutta la mia... Quello l'ho visto, quello l'ho visto. Tutta la mia tristezza per aver fatto così tanto per non poi poter raccogliere i frutti di quello che avevo seminato. Perché finché lo fai forse non te ne rendi conto. Quando poi arrivi alla fine del percorso e li raccogli, ti rendi conto di quello che hai fatto. Se hai raccolto qualcosa non ti pesa, ma quando ti tagliano in mezzo al percorso e ti rendi conto che tutto quello che hai fatto poi non porterà a niente, allora lì ti rendi conto veramente... Ho detto ti rendi conto 16 volte e lo ridirò. Lì veramente però ti rendi conto di quanto hai fatto, di quanto ci hai messo, di quanto cuore, quanti sacrifici, quante persone accanto a te hanno sacrificato loro stessi la loro vita per te, in senso, in parte ovviamente. Però hai citato la mia ragazza, anche lei, viviamo insieme adesso da poco, ma stiamo insieme da dieci anni, siamo ormai abbastanza grandicelli, eppure lei sa quanto per me ora lo è anche per lei, perché sa quello che ho passato, siano i fondamentali le Olimpiadi e quanto prima di quello non possiamo avere degli stravolgimenti perché significherebbe comunque cambiare. Dai cambiamenti può nascere di tutto, The Butterfly Effect lo insegna il film. Se tu tieni davvero tantissimo a qualcosa ti rendi conto che quei sacrifici li puoi fare, li vuoi fare, sono scelte, non sacrifici a quel punto. Per quanto riguarda la seconda domanda, è più difficile arrivare nella pallacanestro o nel salto in alto? Credo che la pallacanestro la praticano milioni e milioni più di persone rispetto al salto in alto, quindi a livello di numeri sicuramente nella pallacanestro è molto più difficile. A livello di qualità fisiche? Allora, io credo che nella pallacanestro servano qualità fisiche ma si possono sopprimere con altre qualità, qualità tecniche per dirti. Se hai un tiratore alla… adesso non faccio gli esempi perché poi subito mi dici qualcos'altro e non lo dico, però se hai un tiratore eccellente riesce comunque, se quella qualità è il più bravo di tutti riesce comunque ad eccellere. Se hai un rimbalzista alla Tristan Thompson che prende tutti i rimbalzi offensivi riesci comunque ad eccellere. Sono tante qualità, differenze anche tecniche che possono fare… differenti anche tecniche che possono fare la differenza. Nel salto in alto siamo in un range molto molto più ristretto. O sei un atleta elastico, o sei un atleta esplosivo, oppure non hai possibilità di eccellere in questo sport. Sono due tipi di qualità che sono poi di conseguenza le due qualità che aiutano nelle due diverse tecniche. Ci sono dei saltatori come me, elastici appunto, che utilizzano la velocità e grazie alle qualità elastiche del muscolo riescono a trasformare la velocità orizzontale in velocità verticale e poi ci sono dei saltatori più esplosivi che invece utilizzano la forza, che spesso sono, per fare un esempio, per far capire meglio, sono i saltatori di colore, quelli che si vedono che vanno giù, caricano e saltano da morire, tutta una cosa di spinta e di potenza muscolare, potenza allo stato puro. O hai una di queste due qualità oppure non ti inventi e non ti rinventi da nessuna parte. Allora, una domanda di Andrea che ne prende un po'. Uno, che cosa hai pensato quando hai visto quel famoso salto di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria di cui si è parlato tantissimo e ho parlato persino io a SkySport24 e l'ho paragonato a un alley-oop, nel senso che per me c'entrava molto che Ronaldo era stato chiamato a quel tipo di sforzo fisico perché doveva seguire un attrezzo, così come quando tu segui la palla per seguire l'alley-oop e un parere su Last Dance che immagino che avrai avuto modo di vedere i primi episodi in questo periodo. Allora, per quanto riguarda Ronaldo, dico la verità, il gesto tecnico credo che sia una cosa che io potrei provare da qui alle mie prossime 18 vite e non riuscirci. Poi con la mia capacità di prendere la palla con i piedi e con la testa che è rasente allo zero, credo davvero che sia stato un gesto tecnico allucinante. Hai fatto benissimo a paragonarlo all'alley-oop perché credo che sia la cosa più simile, ovvero non è, forse l'alley-oop in realtà la parte fisica è molto più apprezzabile. Dal punto di vista fisico in realtà non è un gesto così eccezionale, ne abbiamo parlato nei giornali più volte, quindi delle interviste adesso. Verrò criticato sicuro per quello che dico, ma quello che cerco di sottolineare è che il gesto tecnico è una cosa irripetibile che solo lui ha in grado di fare perché è il giocatore più forte al mondo. Ci ha messo un salto discreto, ma sicuramente se vai ad analizzare come hanno fatto in molti in quel momento, secondo me sbagliando solo il gesto fisico, allora perdi un pochino di vista dei punti perché se prendi Ivan Zajsev per dire per cambiare completamente sport, quel salto lì te lo fa con una gamba da fermo, probabilmente. Quindi la tecnica assieme al fisico e la combinazione delle due? Sì, quello che lui ha fatto è stato un gol, mettere la palla sotto il set e prenderla con uno, un difensore che era lì sotto mentre la palla arrivava dall'altra parte, dall'angolo, insomma un gesto tecnico allucinante. Ci ha messo un buon salto, un discreto salto perché comunque lui è un atleta, è un calciatore atleta, ha una buona elevazione, ma se toccare la testa con la testa a 256 centimetri è una cosa di cui esaltarsi, ecco, non avrei fatto salto in alto. Esatto, last dance? Last dance in realtà no, non l'ho vista ancora, purtroppo è colpa sua della ragazza che sta cucinando, adesso gli darò tutte le colpe, perché purtroppo stando a casa tutto il giorno, tutte e due insieme, perché lei non potendo lavorare, non potendo uscire, lei bene o male diciamo che gliel'ho fatta odiare la palla canestro per il canestro qua, per le canotte che sono appese qua, per il canestrino che è qui sopra, ecco, quindi tutte queste cose qui hanno fatto sì che io non posso vedere la stanza. Devi dosare la palla canestro, ma posso dirti che è quasi meglio a questo punto, ti consiglierei di aspettare l'uscita di tutte le puntate, poi un giorno prendi e fai la full match. Ho paura dello spoiler. Ah, perché non sai, effettivamente non sai come va a finire, non sai chi vince alla fine. No, però il consiglio è talmente coinvolgente per alcuni che quando finiscono le due puntate che escono ogni lunedì, vorresti già vedere, invece devi aspettare una settimana. Allora, io credo probabilmente che quando usciranno tutte e dieci, le rivedrò, ci sarà un giorno in cui farò la maratona e le rivedrò tutte. Gianmarco, allora sei stato fino a questo momento fin troppo gentile, ti chiedo solo un'ultima cosa visto che siamo in chiusura, che ti abbiamo portato via più di 40 minuti, ma l'ultima cosa veramente che ti chiedo anche per raccontarci quello che sarà il tuo futuro. Mi dici, questo slittamento delle Olimpiadi, come cambierà la tua preparazione? Se la sconvolge completamente, se devi ricominciare o se devi semplicemente riposizionare il lavoro che stavi facendo? Ma da ottobre dovrò sicuramente ricominciare, perché le nostre preparazioni si, tra virgolette, passano in termini dal punto di vista fisico, si preparano di anno in anno. Dal punto di vista mentale, fisioterapico e tutto il resto, tecnico, si preparano di cinquegno in cinquegno, se vogliamo. Però prettamente fisico, noi è una preparazione che inizieremo ad ottobre, come abbiamo iniziato ad ottobre dell'anno scorso. Quindi da lì rinizieremo, fino a lì adatteremo. Adatteremo perché è cambiato tutto, è cambiato completamente l'approcciarsi alla stagione, da un anno che sembrava l'anno più bello, felice, dallo stesso punto di vista di tensione maggiore di sempre, a un anno che non sai che cosa succederà. Quindi io credo che sia la prima volta in assoluto nella mia vita che vado al campo, mi alleno. No, vado al campo non è vero perché mi alleno a casa. Però mi alleno a casa, fortunatamente ho uno spazio all'aperto, riesco a fare molto dei miei allenamenti, abbiamo portato tanto materiale a casa. Comunque mi alleno a casa ma con una motivazione che è veramente, veramente bassa rispetto al mio solito. Mi alleno con un'intensità che magari per un atleta normale sembra comunque un'intensità alta, ma per me, per come sono abituato, che io vado al campo ad allenarmi, che per me ogni allenamento è gara, mi rendo conto che mi sto allenando veramente tanto, tanto in maniera differente. Questo perché non ho degli obiettivi a breve termine tangibili, non so che cosa succederà da qui a poco, non so quando scenderò in pedana. In teoria adesso sarei dovuto essere in Giappone, a Tokyo, proprio per fare dei test preolimpici con delle gare, quindi è tutto un po' cambiato. Non ci saranno gli europei quest'anno ad agosto, sono stati annullati settimana scorsa, quindi non sappiamo in realtà se scenderemo mai in pedana. Questa cosa, capisci, destabilizza molto. Mi raccontava Nicola Ruggero questa sera che la Repubblica cieca ha autorizzato la ripresa delle competizioni di atletica, il primo evento sarà un meeting a Cladno, il primo giugno, quindi magari può essere... Il mio compleanno. Esatto, magari vai a festeggiarlo. Allora, io ti ringrazio, non devi dirlo per forza, ma ti sei fatto la classica promessa se vinco una medaglia alle Olimpiadi puntini puntini, cioè una roba così, non la devi dire. Chiedo solo se c'è. Ma no, io credo solo, quello che dico sempre, che se dovesse succedere, però è sbagliato un singolare plurale, perché non sarebbe una medaglia, ma l'ha, anzi no, l'articolo è sbagliato. Ok. Se dovesse succedere di vincere quella medaglia, perché ce ne sono tre, quella medaglia credo semplicemente che sarei davvero l'uomo più felice della Terra per tutta la vita. È una cosa, scusa, ti rubo un altro minuto io in questo caso. Qualche anno fa, quando proprio stavo tornando dall'infortunio, adesso cerco di ricordarmi bene la frase, stavo cercando di tornare dal mio infortunio nel 2017 e facevo molta difficoltà e ero sempre frustrato perché non riuscivo, per un anno, due anni interi sono stato davvero frustrato nella mia vita perché non riuscivo a rivedermi di nuovo con Pistico a livello internazionale. E mio padre in quel periodo, in un allenamento specifico, mi disse, guarda Gimbo, che devi imparare ad essere soddisfatto di quello che stai facendo, dei tuoi passi, perché sennò vivrai frustrato per sempre. E io mi ricordo benissimo che gli risposi, forse hai ragione tu, ma forse se un giorno riuscirò a fare quello che sto provando a fare, quello per cui sto lottando, allora quel giorno sarò il più felice di tutti. Quindi l'unica mia, mio fioretto per quella, per quell'Olimpiadi, per quella medaglia è proprio questo. E credo che non ci sia cosa più bella dell'essere felice di tutti per sempre, quindi. Assolutamente. Allora, tu sei già stato con noi a Sky Sport 24, Casa Sky Sport. Non mi avete mai invitato. Va bene, allora ci penso io settimana prossima, ti enti libero, mi prenoto immediatamente, così parliamo anche di basket. Chiamo subito la redazione di Sky Sport 24, faremo Casa Sky Sport con Gianmarco Tamberi e la promessa è che devi tornare all'Eurocamp a salutarci, se non altro per farti ribattere un po' il cuore. Ma stravolentieri, ma anno scorso in realtà ci siamo anche sentiti tramite il GGG, l'evento che faccio con... Io ero più a Jack Galanda che stava facendo un'altra cosa e non so... Esatto, con Paltriniere e da Tome per unire un pochino la cosa, verrà sicuramente da sé. Va bene, allora ti aspettiamo all'Eurocamp, grazie per la disponibilità. Grazie a voi. Sarà breve, ti manderò un messaggio per organizzare a Casa Sky Sport. Ciao Ale, grazie mille, ciao ragazzi. Ciao a tutti.